Perché bisogna annoiarsi? L'idea della noia era proprio una sorta di utilizzare la noia come simbolo di tutta quella parte di tempo che ci rimane un po' in mano, il poco tempo libero che magari abbiamo, e che siamo portati da mille cose a farci riempire, come dicevamo prima, dall'algoritmo, che va bene, io trovo in alcuni momenti, tipo la sera, guardare un po' TikTok è la cosa più rilassante del mondo, se venisse uno a dire no ma un buon libro, io in quel momento direi no. Benvenuti a questa nuova puntata di Vidence, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Pietro Minto, che in realtà mi viene da dire, quando ti presento volevo dire, è quello di Link Molto Belli, poi però mi sono detto, non è che fa conto come Maccio Capatonda che è sempre arrabbiato perché poi dice, ma io ne ho fatte di cose, ho fatto libri, ho fatto film e voi mi ricordate sempre per i trailer, a te dà noia essere presentato come quello di Link Molto Belli? No, no, devo dire di no, cioè mi va bene, poi insomma faccio anche tante altre cose, però Link Molto Belli è un po' diventato il centro che raccoglie tutto quello che faccio, quindi va bene. Allora, proprio perché in realtà partiamo da Link Molto Belli, che poi come nota personale non ne frega a nessuno, è il motivo perché poi io comincio a scrivere video belli dove trovarli, perché alla fine quando uno si approccia a newsletter guarda tutti quelli che avevano già iniziato, e iniziato prima di te è difficile, quindi nel senso si diceva prima è dieci anni quest'anno. Io a dicembre tipo sono dieci anni, giù di lì, sì infatti devo capire cosa fare per... Per diventare grande. Sì, no, per il decennale, perché di solito non faccio grandi celebrezioni. Però tra l'altro te l'hai iniziata in un momento dove diciamo non c'era l'onda alta delle newsletter. Zero, c'era... l'ho iniziata su Tiny Letter, che era un servizio che adesso ho chiuso, che si è preso MailChimp e poi MailChimp l'ha chiuso, e Tiny Letter è quello che ha aperto la prima wave, però era proprio di autori che facevano queste... era per lo più testo, cioè era un modo di mandare... era tipo il form di una mail, solo che c'era un dia buono, ti potevi anche scrivere, era super elementare, senza monetizzazioni né niente. Che comunque... Poteva andare bene. Sì, sì, poi dopo i 5.000 bisognava passare a MailChimp e non avevo voglia. Ma ti posso dire una cosa? Perché io sono sempre rimasto incuriosito da come è fatta la tua newsletter, dal fatto che è un po' anche come ci piacciono le cose a noi, ma è nata da un bisogno, mettiamo così, artistico, in cui a un certo punto dicevi, no, io voglio che il mondo conosca tutti i link molto belli che io trovo, o era anche un modo quasi più pragmatico nel dire nella mia vita io questa roba già la faccio, lo faccio per sharing come bogeste, cioè diciamo prendetene e cliccatene tutti. No, è nata una combinazione delle due cose, però c'era una causa, c'era una cosa proprio pragmatica, perché all'epoca ero andato via da Milano, ero tornato in provincia di Venezia, a Milano, dove abitavo per un po', e quindi avevo voglia comunque di tenere informate le persone su quello che stavo facendo, gli articoli, eccetera, quindi in più c'erano un sacco di cose che trovo che non sapevo dove mettere, non ci potevo fare un pezzo, non li mettevo magari sui social, perché sennò mettevo troppe robe, e quindi proprio ispirandomi a delle newsletter su Tiny Letter, era appunto tipo una di Alexis Madrigal, che erano cinque link al giorno, si chiama Five Intriguing Things, e un'altra di Anne Friedman, che era sempre settimanale. Ho messo insieme questi due modelli e ho detto, lo faccio anch'io, ma all'inizio, mi ricordo, ho aperto l'account e ho detto, boh, magari fra due settimane mi dimentico di mandarla, perché c'è, se quelle cose che cominci, e invece poi si è proprio fuso insieme, si è unito proprio al mio lavoro, essenzialmente, cioè come uso internet di solito per trovare le notizie, lo uso anche, cioè non gli scarti, ma tutto quello che non può diventare notizia va lì, e poi adesso la uso per fare anche magari dei pezzi più brevi, degli approfondimenti, molto molto libera, insomma. E io proprio su questo, cioè sullo scrivere, ti voglio fare la prima domanda, che un po' ci introduce, perché noi con Vidence cerchiamo di fare vedere dei contenuti video che poi introducono degli argomenti, ma in realtà oggi cerchiamo di fare una declinazione più su contenuti ad ampio raggio, quindi anche libri, anche newsletter. Sei ovviamente anche un digital, cioè sei un giornalista, sei scrittura, però ti sento come un nerd del digital, comunque dell'internet. Cosa ti dà in realtà di differenza quando scrivi una newsletter e quando invece scrivi un libro, che poi abbiamo qua, cioè nel senso che... Beh, allora, io per tanti anni non ho proprio pensato, cioè ho un po' abbandonato l'idea di fare libri, avevo ricevuto un paio di proposte, però non avevo mai un'idea, e poi è successo che... Prima ho partecipato a una raccolta di saggi, diciamo, per i Naudi, che si chiamava The Game Unplugged, erano dei saggi su The Game, che era il libro di Alessandro Baricco, ed era per la prima volta, mi sono ritrovato quindi a fare un testo abbastanza lungo, ma insomma un saggio, insomma, che non doveva andare online, che qualcuno se lo sarebbe letto così, e non c'ho... Cioè mi è piaciuta come sensazione, cioè perché è comunque un ritmo un po' diverso. E poi, sì, insomma, non stai scrivendo un post, un articolo, stai scrivendo un'altra cosa, e da lì, insomma, questa cosa mi ha messo un po' la pulce nell'orecchio, ho cominciato a... Prima ho cominciato a sviluppare lentamente un'idea sulla noia, cioè sul fatto che comunque le distrazioni, tutti gli input stessero un po' facendo qualcosa anche alla noia, e che è una cosa che potrebbe essere un problema, o comunque avere delle conseguenze, e da questo è nato... Faccio proprio lo spazio, bisognava tenerli così, ma mi sembrava un po' troppo, e allora mi è nato a tenarli su dopo. E da quello è nato come nel Rossi Meglio, che è uscito nel 2021, e poi da questa cosa qui, insomma, tramite varie vicissitudini, è nata un'altra idea, diciamo che per rispondere alla tua domanda, l'idea che è alla base del secondo libro, che è la seconda prova, e qui finisce la cosa promozionale, era proprio un'idea talmente grande che non sapevo bene come fare se non attraverso un libro. Potrebbe essere anche un documentario, forse, se fossi un documentarista, potrebbe essere varie cose, perché comunque è la storia di una challenge, essenzialmente, con me stesso, cioè non ero mai andato bene in matematica, cosa succede se mi rimetto a 36 anni a studiare tutta la matematica. Quindi c'è tutto il tuo confronto, non è un manuale di matematica ovviamente, però c'è tutto il confronto con se stesso di una volta, il passato, un po', le frustrazioni, perché i miei ricordi di liceo sono proprio... Il dolore. Rifermo alla lavagna, tipo qui, col gessetto in mano, è anche molto umiliante, diciamo, perché poi succede in pubblico, cioè non è che... E quindi riprendere in mano tutta quella cosa lì è molto... è proprio un'avventura, cioè proprio un'avventura che puoi fare stando fermo, tanto comodamente, però quando ho cominciato l'idea di arrivare a poter parlare, a poter risolvere o a capire almeno cosa sono gli integrali, era una roba che mi prendeva... Cioè mi faceva molta paura anche, perché era come tipo vedere dal basso la montagna, no, che devi scalare. E quindi ho pensato un po' come avrei potuto fare questa cosa qui. E alla fine il formato libro è quello che un po' mi viene più spontaneo, non poteva essere una serie di articoli. un podcast, c'è tutto un elemento anche visivo della matematica che si perde, è meglio letta la matematica, ho vista comunque. E quindi, sì, insomma, poi da lì è... Cioè il motivo che ti porta il libro è quello, poi a me piace molto l'idea di fare libri, e mi piacciono i libri, quindi sono anche felice di... Però questa è proprio un'idea che mi sono reso conto poteva essere, come dire, resa, eseguita su diversi medium. Esatto, guarda, non volevo dirlo io, medium, perché questo sembra, però l'hai detto te, e c'è spazio, c'è Ciccia, cioè hai visto che fai un bel po' di cose, cioè fai il giornalista, però poi hai una newsletter, hai delle collaborazioni con vari giornali, sia online che non online, per il libro c'è Ciccia, o fondamentalmente alcuni utilizzano anche... Buffo ho letto un post di Abichino l'altro giorno che diceva per tutti quelli che utilizzano la scrittura di un libro come se fosse un biglietto da visita. E vabbè, c'è il feticio. Sì, o come dire, diciamo, lo scrivo in realtà pensando che nessuno leggerà, ma solo come posizionamento per dire ho scritto quel libro. Non è questo il caso. Diciamo che, allora, in Italia escono ogni giorno un numero spaventoso di libri, e quindi la maggior parte poi non vengono... cioè si legge poco, insomma c'è soprattutto questa cosa qui. C'è l'utilizzo del libro come feticcio, come biglietto da visita, eccetera. Siccome dipende da libro a libro e nella maggior parte dei casi i libri così li riconosci abbastanza velocemente, dici ma perché io devo comprarmi sto libro? Cioè questa è la domanda. Al di là del... Magari può piacerti o meno, però ci sono libri che magari dici, vabbè, gliel'hanno fatto fare. Manuale del Marketing 2024. Punto. Tutto blu. Con una grafica brutta, tipo fuori. Io di solito vedo... No, oppure le cose instant magari, sai, quelle dove... Cioè nessuno c'ha ancora... Come usare le bows. Ma... Sì, o comunque magari... Adesso non voglio nemmeno... Io pensavo più a cose più legate a... La politica. La celebrità. Ah, ok, sì. Cioè, che tipo... Ci sono celebrità che hanno storie interessanti, però quelle che sono famose da due secondi, che fanno la biografia, dicevano, ok. Vabbè, o il talent del momento che monetizza nel libro la far base. Quella cosa lì... Non so che senso abbia per loro. Credo che ci sia una grande soddisfazione. Questo è comunque il potere... Cioè, alla domanda, tipo, ma perché i libri? Comunque bisogna anche... Cioè, si risponde anche parlando di... Cioè, c'è questo potere nei libri che rimane. Chiaro che se tutti i libri finiscono per essere usati come un biglietto a visita, sto potuti fare un biglietto a visita, però, visto che ci sono anche tanti libri belli, è interessante notare come i libri abbiano ancora un carico, proprio un'aura di... Che forse è, scusate, che è forse anche la stessa aura, comunque una parte di quell'aura è quella che rende i libri molto pesanti per molte persone, solo a nominarli. Tipo, oh no, i libri sono... In realtà dipende, cioè, ci sono libri divertenti, interessanti, i libri... Ognuno deve trovare, secondo me, il tipo di saggio, di romanzo che gli piace. Ecco. No, te lo volevo fare questa domanda perché... Cioè, proprio perché te... Qui, vabbè, citiamo nel senso Girolami, magari. Io ti vedo e ti guardo, ti leggo e ti sento designer di contenuti, no? Nel senso, usi la parola in vari modi su vari media, ma il libro, cioè, giusto per... Cioè, che cos'è? Cioè, ora no, 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 ora no, no, che cos'è, secondo te, in questo sistema di contenuti? Prima, facevi questa riflessione, è qualcosa che ha un tempo diverso, a cui ti approcci diversamente, cioè, forse ci ha anche messo contro, poi tra l'altro è uno dei temi, detto prima, cioè, a questa cosa della noia, dell'iperstimolazione. Cioè, il libro è anche un oggetto, contenitore, contenuto, che ha un valore perché lo deve approcci, cioè, perché lo approcci in un altro modo, perché lo costruisci in un altro modo. Beh, sì, sicuramente, esatto, cioè, una delle cose che rendeva la seconda prova il libro sulla matematica così strano rispetto a una cosa, a un saggio un po' più, come dire, un po' più tradizionale, per quanto non sia proprio tradizionale come il primo libro, come nel versi meglio, è il fatto che era, dovevo vivere un'esperienza da raccontare. Questo era proprio perfetto per il formato libro, perché appunto il libro, proprio per come funziona poi l'industria libraria, cioè, come si fanno i libri, tu, una persona magari è abituata a fare un post, un video, se lo gira così, pubblica, va, ops, e con questa semplicità va online e magari diventerà la persona più famosa del mondo o è rovinato secondo te di come va quel video e quell'immediatezza ormai pervade tutto, però se tu vuoi fare un libro, magari lo scrivi in due settimane per qualche motivo, sei molto veloce o lo fai scrivere a CiaGPT, non lo so e speri che nessuno se ne accorga, però poi nel momento in cui lo consegni, anche se vai se vai con una casa editrice diciamo di quelle che non si fanno pagare, ecco, quelle diciamo vere con tutto rispetto ovviamente per gli editori normali, c'è un tempo cioè lo ricevono, hanno magari un calendario che può essere di qualche mese, cioè almeno un mese insomma, per cui quella cosa lì è talmente strana in un mondo come questo, forse è come dire fuori dal tempo, non lo so magari cambierà eccetera però comunque c'è da dire che nella maggior parte dei casi sui libri bisogna lavorarci un po' e quindi è molto interessante a prendersi il tempo e b fare una cosa che di solito non succede con gli altri post diciamo contenuti che è ricevere poi la mail a chiamata di qualcuno e gli fai ok ho letto allora ti mando adesso le mie note e tu ti ritrovi quello che è scritto mesi fa e c'è questo tipo ritorno questo rinculo ecco potremmo dire e ritorna in quello stato in quello stato mentale con le note di una persona che ovviamente è capace insomma ed è brava e quindi c'è tutta quella cosa lì proprio nasconde proprio un'artigianalità non so un modo di fare che non dico che si è perso perché poi lo stesso c'è anche i film adesso non è che li giri li pubblichi il giorno dopo cioè nella maggior parte dei casi anche tante cose le cose professionali ci mettono un po' di tempo però ecco l'illusione di immediatezza che dà tutto il resto non è la norma e non può esserlo perché se no scrivo cioè io potrei scrivere un libro tipo così e pubblicarlo su Amazon anche su ebook e stasera è online è in vendita e se vendi tra l'altro fai anche un sacco di soldi perché ti prendi la maggior parte e vedi la metà tipo come ha fatto il generale Vannacci e vabbè lui l'ha fatto però come dimostra il generale Vannacci nessuno ti controlla l'idea è geniale lui ha fatto veramente la mossa del secolo come quell'altro quando lo stavi dicendo unendo anche CiaGPT come quelli che all'inizio con i giorni avevano fatto tre o quattro tavole di fiaba per bambini CiaGPT gliela scriveva pubblicavano la stessa su Amazon buttavano fuori effettivamente monetizzavano ma per unire un pochino una parte che fino ad ora è mancata cioè quella del marketing in realtà io ti riportavo a una cosa che secondo me connette newsletter e libro perché io credo che quando scrivi un libro del genere non ti poni mi rispondo da solo le domande classiche di un testo che ha un target o che ha delle richieste di SEO o altro cioè scrivi un libro è vero anche però che Link Molto Belli ti dà una grande mano a veicolarlo poi questo messaggio quindi c'è comunque sempre un po' un'unione fra la newsletter poi mi serve cioè te dicevi prima quelli che sono famosi un giorno e scrivono te in realtà per una bella nicchia di persone di coda lunga o di bolla o come vuoi chiamarla sei famoso con Link Molto Belli e Link Molto Belli ti dà una mano dà una mano alla seconda prova dà una mano a come annoiarsi meglio c'è questo legame di marketing insolubile sì diciamo di sì cioè nel senso non era parte del piano vorrei poter dire di averci pensato dieci anni fa che fosse un piano diabolico eccetera in realtà e poi la cosa assurda è che per caso così perché poi era una cosa nuova all'epoca quella delle newsletter cioè era una cosa vecchissima però era ritornata stava ritornando e l'avevo vista fare a me piace provare se c'è una cosa che mi nuova che mi può interessare la provo e quindi poi facendo quella cosa per caso mi sono ritrovato ad avere una newsletter che poi adesso se vedi tipo i consigli che danno agli scrittori ma non solo se vuoi farti una come dire se vuoi avere una presenza online e magari hai due milioni di di follower su tiktok poi però l'algoritmo tiktok è così è cangiante e ti può abbandonare e una delle cose è vabbè o fare altri essere su altri social sicuramente oppure fare una mailing list perché la mailing list arriva nelle mail non c'è un algoritmo avere una community avere una community comunque tipo anche il post nasce dalla trasformazione di un blog poi alla fine tanti progetti editoriali poi nascono capitalizzando anche delle community che poi un po' un voglio dire ti amano per forza però ti seguono quantomeno e quindi sono cioè te ce l'hai questo rapporto di voglio dire usiamo una fidelizzazione cioè la tua è una newsletter di botte e risposta cioè dove o guarda allora è una newsletter ormai vecchia appunto per cui ci sono tante persone che mi seguono da anni e però non sono cioè forse per il mio carattere personale che non sono molto ci sono persone c'è chiunque può scrivermi rispondendo io rispondo sempre se mi mandano qualcosa di interessante e la uso lo elicito c'è questa cosa qui non ho mai fatto queste cose proprio da community tipo da ci vediamo all'attività facciamo l'evento no no con il privo no 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 ma anche perché credo che cioè non per snobismo ma perché insomma appunto tornando al discorso di prima per i dieci anni a me piacerebbe fare qualcosa che non so cosa sarà e non so nemmeno magari non faccio niente però è una di quelle cifre tonde una milestone sì che cioè non far niente sarebbe molto strano e quindi community c'è però è molto cioè nel senso chiunque segue Alimutobelli cioè è una persona che in qualche modo sento di capire almeno in parte ok ti piacciono queste cose qui bene possiamo parlare un po' insomma ed è sicuramente appunto utile poi quando ti ritrovi a fare qualcosa lo metti lì poi insomma diciamo che magari non sono nemmeno nel senso se Dio vuole il lettore la lettrice a me dei lì molto belli poi si fa un'idea e poi magari non gli interessa una cosa che faccio un podcast mi interessa questo o il libro anche cioè si fa non è proprio quella cosa tipo da influencer questo è quello che dico io perché io non ne ho voglia di farlo proprio e non ne ho la caratura forse però insomma è sicuramente bellissimo e proprio per questo ti chiedo c'è tutto un tema adesso soprattutto lato musicale sul fatto che molti si lamentano che l'artista oggi debba anche fare un monte di altre cose che prima non faceva sponsorizzarsi avere comunque una presenza TikTok e io è una cosa che vedo anche molto a livello di realtà di altre industrie quindi per esempio il libro quindi per esempio lo spettacolo teatrale quindi per esempio oggi anche l'artista artista pittore anche l'artista artista anche lo Iago romano che fa lo scultore che però fa dei ridi della madonna e comunque poi costruisce il suo nome anche e soprattutto grazie a quelli non la voglio chiamare dittatura perché sembra di giocare apposta però sembra veramente che anche poi chi sta dentro questa industrie abbia demandato ai protagonisti che poi agli artigiani agli artisti e tutto il fatto di farsi la comunicazione cioè visto che se può fare visto che tutti potete farlo un reel visto che tutti comunque potete fare la newsletter e io aggiungo alla cosa dicevate prima la newsletter ha anche di bello il fatto che poi ti trattieni le mail comunque nel senso rispetto anche ai due milioni dell'influencer che hai due milioni su tiktok i 15.000 che hai usi substack i 15.000 che hai comunque leggi la mail c'hai la mail ti rimangono anche se domani dici chiude battenti buona ugo ciao però si vede questo processo per cui in realtà tutti quelli che non tutti noi tutti quelli che fanno anche oggetti di questo tipo artisti artigiani spettacolo hanno anche questo obbligo comunque di dover creare una fanbase di dover comunicare perché in realtà poi in Audi non lo fa più lo fa lo fa in altri modi organizza le giornate nelle librerie probabilmente lo fa con i suoi metodi però chiede credo anche poi all'autore di essere un personaggio social un personaggio che possa portare un po' come quando si diceva vieni fai la sedata in discoteca ma porti 50 persone no beh allora diciamo che da un lato non c'è una richiesta almeno a me non me la c'è in Audi all'ufficio stampa arriva un sacco di posti poi io parto sento di non partire da zero perché c'è appunto grazie a link molto belli se non avessi quello mi sentirei un po' più tipo che esce e dico che ti facci che esce accendi un cero e stai lì ecco preghi poi con questo almeno una piccola insomma un gruppo di persone piccolo 17.000 persone ormai per cui insomma però che potrebbero avere di gusti come si dice quando si fa la partenza delle campagne di crowdfunding c'è sempre il family and friends sì esatto cioè che è il primo gruppo che ti deve avere una famiglia di 17.000 persone non fare subito quell'ansia dell'andrà malissimo cioè comunque questo cioè la newsletter sono i tuoi family and friends cioè sono quel gruppo che insomma te lo dici non sì sì un sottogruppo di quelli 17.000 non credo nemmeno io purtroppo però sì secondo me nella musica si sente forse ancora di più perché poi lì c'è la questione dei social cioè del fatto che ci sia e poi del fatto che TikTok ha avuto una grande influenza nella musica proprio c'è l'avuta anche nei libri con BookTok però molto di più sulla musica quindi se vuoi se la canzone nuova è una canzone pop devi prima diglielo a TikTok sperando che poi ci sia il travaso quella roba lì ecco è molto secondo me cioè non è una cosa positiva insomma cioè nel senso infatti James Blake in queste settimane ha tirato su un po' un polverone perché un po' prendendo solo con quelli dello streaming ecco in generale adesso vuole provare a fare una cosa per i fatti suoi vabbè però in generale c'è tutto un dibattito su una serie di grandi artisti del passato che insomma c'era non so qualcuno su TikTok appunto diceva se Tom York avesse cominciato a fare dei TikTok per pubblicizzare che computer non so cioè non è una cosa immaginabile insomma perché di solito gli artisti fanno gli artisti e adesso la cosa è cambiata già nel senso io in vista anche del libro ma così ho fatto un po' di cose su TikTok che poi però è molto difficile per me per come sono fatto io mettermi lì in prima persona per parlare delle mie cose cioè insomma preferisco scrivere o preferisco fare dei video in cui non parlo parlo indirettamente tipo ho fatto dei video su TikTok su delle mappe per lo più e che è andato bene mi diverte però devo ancora capire bene cioè non credo di voler fare lo scrittore su TikTok innanzitutto perché non è che ci sono altre persone che possono farlo ma poi perché su TikTok mi sembra vada molto tipo cioè parlare in maniera proprio maniacale di una cosa quindi non è che vi diciamo ho scritto questa cosa devi metterti lì stare settimane a parlare di quello che è scritto e poi quando è un momento in cui fai un libro ci sono quelli che proprio fanno dimestire il TikToker dei libri allora i libri sono così e io non lo voglio fare cioè sinceramente preferisco mi piace parlare delle cose che faccio però insomma non voglio nemmeno mettermi mi sembrerebbe un po' di mettermi tipo un costume di scena dire eccomi nei panni e alla fine che forse è questo costume un pochino anche che tanti artisti sentano un po' non proprio e invece altri che sono nati forse proprio all'interno di questa cultura e che forse anche se se la sentano un pochino più addosso ci sguazzano abbatamente e ne traggono enormemente frutti beh sì chi si trova spontaneamente a fare cioè proprio agio a fare queste cose qui secondo me sì ovviamente è facilitato poi non so cioè credo sia credo che sia una cosa cioè che ti dà una spinta iniziale e poi però insomma deve esserci un po' di ciccia sotto di ciccia cioè il giusto il giusto rapporto tra diciamo fumo e arrosto fuffa meno ciccia uguale ok allora vi incredibile dopo una ventina di minuti vi faccio vedere il primo video di oggi è un video in realtà preso da link molto belli e in realtà è un video stupido però che mi permette di parlare della bellissima stupidità che tu e altri ci fate vedere dell'internet ecco ok allora ho preso questo da una non so se ha bisogno ecco un esegesio di spiegarlo però diciamo questo un video inspiegabile perché è bellissimo per me da guardare su un video e non la sera prima di aver letto e secondo me questo ci introduce a un tema che non è per forza TikTok perché questo in realtà è verticale ma se fosse stato su YouTube in orizzontale Gabibbo sarebbe stata questa cosa cioè internet è ancora strapieno come un tempo di cose bellissime e forse poco viste dalla massa che invece va sempre un pochino dietro alcune cose che proprio perché vengono piaciute poi come Codalunga vengono viste e poi si creano invece queste micro nicchie di appassonati che semmai il giorno in cui è uscito si girano tutti in chat il hai visto il Gabibbo questo video qua in particolare mi sembra una forma di shitposting cioè video cioè per cui secondo me sì è ancora pieno di cose perché comunque c'è sempre un certo una certa percentuale della popolazione degli utenti che si diverte in un certo modo e fa certe cose quello che cambia è che di cui proprio il registro poi ho avvertito anche cercando ogni settimana delle cose cose che magari trovo anche navigando per caso però alle volte mi metto a cercare ho i miei metodi e è comunque figlia dell'impatto dei cioè del dominare dei social network per cui c'è sempre meno roba nel world wide web c'è sempre più nelle app o nei social in ambienti chiusi e dentro quegli ambienti ci sono appunto gli algoritmi che ti consigliano e che speciale nel caso di tiktok sono in grado proprio di far esplodere le cose però poi c'è tutto un sottobosco che secondo me va gestito un po' va curato ecco in maniera manuale ecco in maniera quasi artigianale è quello che manca è proprio manca un po' di più rispetto al passato c'è ancora però meno è proprio l'idea di andare in un sito e trovare un sito figo strano comunque un sito che attraverso il quale trovi cose eccetera quella cosa lì c'è un po' meno credo che adesso siamo proprio non lo so magari io dico al picco magari invece è tipo l'inizio di un altro picco molto più grande però siamo in un punto abbastanza strano critico perché con tutti i media diciamo generati da intelligenze artificiali tutti questi sia il web che le varie piattaforme sono allagate tipo di contenuti d'ogni tipo e questa cosa qui secondo me porterà una sorta di cioè potrebbe fare crashare il sistema insomma o quanto meno il sistema per come l'abbiamo conosciuto noi e non so cosa succederà cioè credo dipenda anche da noi cioè da un lato vedo in alcuni ambienti magari più sensibili un po' più tra gli attivisti i super nerdoni gli artisti la parte un po' più come dire sofisticata ecco c'è un recupero la volontà di recuperare l'idea del sito quasi artigianale di fare il tuo sito non con un servizio cioè magari usando un servizio ma mettendolo nel web e in quel servizio lì non ci sono gli algoritmi e può essere anche un ambiente molto piccolo una cosa estemporanea che è quello che si faceva normalmente una volta e secondo me spero che questo che questa questo riempimento che c'è stato del web in generale e che c'è ed è in corso porti a non so al tentativo di estirpare un po' delle cose che sono venute fuori e di ritornare a fare cose più concrete io ci spero perché se no boh l'alternativa non so cosa sia l'alternativa secondo me te ti auguri il momento kernel panic in cui diventa tutto blu e dobbiamo resettare magari perdiamo qualche pezzo ma più che altro questa è una cosa di cui parlava Nilay Patel che è il direttore di The Verge che è molto bravo a parlare di queste cose e secondo lui proprio recentemente diceva che secondo lui tra un anno ad esempio Google sarà successo qualcosa di profondamente diverso non che Google sarà chiuso ovviamente ma siamo a un punto di rottura perché ad esempio con Google proprio come dire in prima linea quando è esploso c'è GPT Google entro pochi giorni è andato in codice rosso come si dice tutta Google è andata in allarme perché non tanto perché OpenAI fosse così avanti rispetto perché Google aveva sviluppato cose Google ha la sua Area 51 lo sappiamo dove dentro c'è è stata presa come dire di sorpresa però insomma poi recupera o recupererà il problema è che nel momento in cui si succede veramente che al posto della ricerca tu scrivi al chatbot invece di una domanda e lui ti genera la risposta invece di trovarti i siti dove c'è quella domanda dove c'è quella risposta nel momento in cui succede quello Google cioè il modello di business di Google non ha più alcun senso e il modello di business di Google è più o meno il modello di business del web quasi escluso alcune aree e con la roba lì cioè come fai io non so cosa però il fatto che si stiano poi facendo così tante cose così in fretta è un po' dettato dal fatto che il settore si sta muovendo in maniera assurda velocissima ma anche perché c'è un po' di panico hanno detto il Financial Times l'altro giorno che diceva che Google sta pensando a vari servizi di AI search cioè di ricerca con le AI e quello premium con un po' più avanzato lo vuole mettere a pagamento però in una forma a pagamento in cui comunque ci sono le pubblicità che è comunque cioè ha Google che mette a pagamento la ricerca sul web che è abbastanza contrario a contro natura quasi e poi c'è il cortocircuito logico comunque di Google che ti dice sia a pagamento ma comunque le nostre pubblicità te le devi vedere perché sennò non riusciamo a capire come la RAI però però se posso questo tema che a noi comunque da creatori ma anche da affritori appassiona un ospite che abbiamo avuto da poi è Tiziano Tassi di caffeina che ci diceva sai la grande comunque io vado un po' a memoria ma un po' a speech cioè la dicotomia è discovery and search no quindi le piattaforme no sono discovery no però sono discovery demandate anche un po' all'algoritmo dove ti coccola ti liscia perché e poi ogni tanto ci butta quello di tiktok è meglio di quello di meta perché ogni tanto ci butta questa roba qui e io questa roba mi ha accettato il cervello ci ho pensato e ho ripensato e forse il primo web cioè prima proprio delle piattaforme non aveva la differenza fra search and discovery cioè nel senso nell'approccio poi l'amico ti mandava una cosa era discovery però il discovery cioè la discovery veniva fuori dalla ricerca cioè la scoperta era tutt'uno con il cercare non la potevi demandare mentre è arrivata la piattaforma di infotainment ma soprattutto è arrivato l'algoritmo della piattaforma e questa discovery cioè non devi più fare il cacciatore esploratore per trovare nuovi luoghi puoi stare lì e qualcuno ti porta cose diverse da assaggiare sì è così e secondo me tra l'altro è un concorso a questo punto sarebbe facile dire è colpa dei social che hanno scorporato la scoperta poi rendendola un po' più cioè un po' più artificiale appunto è una scoperta un po' appunto alle volte vieni proprio imboccato dall'algoritmo in alcuni casi più che una scoperta vera e propria però è anche colpa di google secondo me non per essere cioè nel senso che adesso siccome utilizzando la ricerca non puoi più scoprire granché cioè utilizzando proprio google come motore di ricerca perché la qualità delle ricerche di google è molto diminuita ed è diminuita a livello di precisione di cose cioè è un po' più difficile trovare veramente quello che volevi devi starci un po' più dietro ed è colpa del fatto che comunque google ha riempito le pagine risultati pubblicità c'è un asseo tutto un sfruttamento della ottimizzazione per i motori di ricerca eccetera che è un po' sfuggita di mano e quindi cioè io prima dicevo il web c'è riempito di contenuti generati però il web è già adesso riempito pieno di siti di robaccia e fatta da umani poveracci che non invidio che mi adesso sarà noto in questo benvenute le macchine lo faranno a loro sì secondo me è un po' sì mi dispiace per loro perché io ho questo lavoro qua però è comunque una forma di lavoro cioè che io a un certo punto mi è capitato di non dico fare ma di di entrare in contatto con la realtà che faceva questa cosa e mi avevano spiegato come la facevano con tutti le loro regoline e proprio mi ricordo la sensazione di cioè stavo scrivendo una cosa ma non per il pubblico per farmi spiegare per spiegarmi e spiegare alle persone ma per la macchina cioè no perché se metti questo il titoletto i vari titoletti questo questo ingrassetto no ma ripeti la domanda i nomi chiave eccetera e se tu segui questa cosa qui ottieni le cose che spesso che spesso trovi nei risultati che sono questi queste pagine di testo dici sì ma io volevo sapere boh dai diciamolo che è un po' il posto del blog riservatore Ranzulla dai è la sindrome Ranzulla nel senso quelle quattro pagine iniziali ma no che poi c'è però ma a me capita tipo che magari spostato le tende di tutta sta scrittura perché poi comunque questo lo diciamo menino ne hai trovato un altro del team robot esatto però sì esatto Ranzulla penso ancora ancora di più quelli tipo a me capita tipo magari vuoi sapere qualcosa su un attore un'attrice capiti nei così un po' di gossip in cui vuoi sapere boh lui era sposato con lei non lo so queste cose qui molto cioè e per capire se è vero che hanno sposato ti devi comunque star lì ripetono mille volte si ma allora con chi è sposato queste domande alla fine è una roba cioè se tu devi scrivere per una macchina perché la macchina poi deve dare un'altra deve seguire allora può scrivere una macchina allora puoi scrivere una macchina bene mi avete lanciato tre o quattro assist che prenderò purtroppo non posso prendere tutti insieme quindi anche se mi piacerebbe andare sulla i e su tassi perché devo farvi vedere un commercio all'uscito da caffeina total i vi tengo un attimo ancora sui social e sullo schifo che ci circonda io volevo un attimo tirarti dentro un discorso alto dal mio punto di vista cioè citare la il lemma ormai usata come buzzword da tutti quelli che vogliono fare un po' i fighi cioè l'encittification e dirci quindi ok prova a riassumerlo io veramente anzi no te lo lascio assumere a te perché lo riassumi solamente meglio però io te lo lancio siamo in un momento in cui vediamo veramente tutte le piattaforme che sono arrivate già un po' avanti in questo processo di uncittification e quindi comunque questo c'è tutto un po' di schifo intorno sembra una roba un pochino da bar ma effettivamente funziona eh sì cioè è una frase che funziona cioè diciamo uncittification fuori dal lemma cordiale sarebbe è tutto un gran merdaio cioè giusto per è una frase è una parola che si è inventato Cory Doctorow che è un personaggio storico del web è un attivista del web ma anche un blogger e scrittore di romanzi di fantascienza cioè un personaggio assurdo che appunto ha descritto mi pare in riferimento a tiktok inizialmente l'incittification è lo smerdame l'insmerdificazione non lo so è una cosa che diventa sempre più merdosa essenzialmente però è più che altro non tanto in riferimento alla qualità dei contenuti perché quella dipende poi anche dagli utenti cioè banalmente ma da come un servizio appena nato se è intelligente se è fatto bene cerca di attirare i nuovi utenti e poi pian piano è costretto a far soldi quindi fa entrare gli inserzionisti e lentamente da questa nel momento in cui la pubblicità comincia a pesare e ovviamente devono crescere eccetera eccetera le concorrenze eccetera cominciano a togliere tutti gli incentivi positivi dagli utenti che prima erano al centro dell'attenzione a inserzionisti e questa cosa qui non è solo brutta perché svende la cosa ma perché peggiora il proprio servizio ad esempio con tiktok è successo che negli stati uniti soprattutto sta calando in maniera considerevole l'utilizzo cioè il numero di utenti il numero di minuti sta calando non solo perché un pezzo di congresso vuole chiuderla o bandirla ma perché speciali negli stati uniti sono partite delle novità volute da tiktok che ha puntato molto su tiktok shop e live e questo ha portato in molti soprattutto gli account che vogliono fare soldi vogliono continuare a essere premiati all'algoritmo a fare delle live o a puntare molto sullo shop però facendo delle pubblicità ma delle pubblicità fatte così velocemente dei canali regionali sì tipo quella era l'esperienza quindi per siccome tiktok voleva puntare molto su la vendita diretta e sulle live che sono due cose che in cina vanno tantissimo c'era no l'influente insomma lei che passa le cose super velocemente apre la scatola tira fuori è molto cinese è una cosa molto cinese forse è anche un cortocircuito un po' culturale assolutamente però anche tiktok come idea inizialmente era molto cinese anche se tiktok in cina non c'è è un'altra cosa però comunque forse comunque le distanze tra occidente e europa e stati uniti soprattutto e cina ci sono a livello culturale a livello di consumi poi mediatici eccetera e forse questa cosa qui non va tanto o forse cioè io spero che non vada perché l'idea di guardare delle televendite cioè vuol dire perché se non sei pietro c'è la sindrome we chat cioè c'è il focus immaginario di arrivare all'app dell'acquario che è quella cioè un luogo cioè non è meno un luogo un'app perché poi si potrebbe discutere forse non è cioè attraverso cui poi si fa tutto e che è una di quelle nemesi distopie dove poi te c'entri e se vuoi non c'esci nemmeno più cioè noi ora quantomeno cazzeggiamo e palleggiamo anche fra fornitori di contenuti diversi piattaforme diverse forse anche questa dieta varia cioè un po' ci dà ancora questa sensazione di libertà da utenti surfer invece se poi arrivi a la app dove ci fai tutto cioè ci fai la televendita ti ci informi e no c'è il grande desiderio nemmeno troppo nascosto beh tipo Elon Musk notoriamente ha detto che vorrebbe fare di X una super app partire da Twitter per fare una super app non mi sembra la cosa più più sensata però comunque al di là di questo meta cioè sono tutti molto invaghiti da questa cosa delle super app perché appunto prevede che un'azienda riesca a fare un servizio che diventa fondamentale perché con WeChat appunto in Cina puoi fare tutto cioè non è solo una chat anzi ci puoi hai proprio un rapporto anche diretto con puoi pagare le multe puoi pagare le tasse tipo le cose puoi ordinare dalla super app si collegano altre app minori e quindi puoi prendere il taxi l'Uber quello che hai insomma e quindi puoi tecnicamente non uscire mai da quella super app anche qui però al di là dei desideri dei titani diciamo della Silicon Valley c'è il fatto che comunque la Cina è anche molto diversa dal punto di vista cioè il fatto che al governo cinese conviene molto la super app perché ha un posto da controllare essenzialmente bello grande e si mette lì e lo fa il legame tra l'azienda che lo fa e il governo è ovviamente c'è e in più c'è il fatto che sì in Cina non so quali siano le norme sulla privacy non so se ci siano come siano però insomma da noi ci sono anche soprattutto in Europa in Unione Europea ci sono anche delle norme fatte per evitare una cosa del genere soprattutto negli ultimi anni sta facendo hanno fatto delle norme recentemente proprio per un po' in ritardo ovviamente però insomma il danno era già stato fatto per evitare che alcune aziende che vengono definite non mi ricordo come aziende che hanno un controllo sul mercato oltre una certa soglia che sono le solite note diciamo abbiano siano in grado di ottenere ancora più più peso e adesso c'è anche il fatto che tutte quelle aziende che fino a un po' di tempo fa ogni tanto facevano delle acquisizioni tipo Facebook ha comprato Instagram eccetera poi ogni tanto si compravano qualcosa Whatsapp eccetera tutte quelle acquisizioni sono un po' bloccate Facebook non può più comprarsi un'azienda molto grande o comunque media c'è tutta la politica dell'antitrust per evitare la posizione di dominanza sì perché sono già abbastanza dominanti e adesso sanno che si metterebbero nei guai ed è il motivo per cui si dice che Microsoft non ha di fatto comprato OpenAI però ci ha investito un sacco hanno fatto una partnership avrebbe potuto prendere non so pagando tantissimo forse l'abbia potuto comprarsela non lo so però è meglio di no perché ti metti nei guai allora c'è questa forma che finora è come dire è una sorta di un pertugio burocratico per cui puoi dire no no ma noi offriamo vi ricordate c'era avevano rifatto la sigla di Games of Thrones dove nei vari castelli dei vari regni c'erano diciamo Facebook Twitter e poi ora me l'hai fatta venire a mente perché se riguardassimo ora la stessa sigla c'è sempre meno regni sempre più grossi ma sempre meno forse c'è la metafora anche un po' visiva è che questa mappa i vari statarelli perché poi all'inizio era una galassia di app anche seguito successo e tutto ma erano tante tante avevano proprietà diverse proprietà nel senso proprietari diversi e ora invece sono sempre più è stato un accentramento molto 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 forte che è stato accelerato proprio dalla cosa dell'esplosione delle intelligenze artificiali ieri è uscito un mio pezzo sul post che parla un po' di quello che sta succedendo adesso al settore e con qualche le start up minori tipo inflection e stability e AI che erano quelle un po' più indie diciamo stanno un po' perdendo pezzi i fondatori sono andati via eccetera e c'è stato questo grande proprio accentramento di potere capitali con Microsoft che ha fatto un balzo non è che si stupisce è un po' la mentalità americana del se lo puoi combattere compralo sì sì quello sì è la mentalità cioè quella di Zuckerberg eccetera però anche il capo della SEC ha detto che questa cosa qui poi ovviamente non fa bene al mercato se c'è se tutto è in mano a Microsoft Google e Meta di fatto insomma la cosa delle AI insomma più o meno sono loro che danno le carte e poi insomma è difficile per la la mitologica startup che nasce nel garage a palo alto adesso il garage a palo alto costerà un milione di euro se comprarsi ma soprattutto attivare anche questo tipo di tecnologia costa proprio cioè nel senso stiamo parlando tra l'altro proprio di una cosa particolare in cui la startup di un tempo che voleva combattere Spotify forse lo poteva anche fare combattere invece nel campo di gioco delle AI è una roba che costa veramente un botto proprio di calcolo di avere vagonate vagonate ci ricordiamo che se odinvidia è quello che si sta fregando più le mani di tutti da tantissimo tempo perché poi alla fine serve il calcolatore si serve che Altman ha detto servano 7 trilioni per poter fare il prossimo salto diciamo di calcolo ma però perché si parla di AI e mi avete fatto saltare almeno 2 o 3 video di altre cose ma effettivamente abbiamo già citato 2 o 3 volte l'AI vi faccio vedere quello che sono me Caffeina e Tassi molto bravi hanno fatto per primi nel nostro panorama italiano cioè un commercial total generato in AI dalla parte video alla parte di testo alla parte di voiceover guardiamocelo e poi commentiamolo scusate lo stiamo vedendo ma senza audio e invece adesso Allora ovviamente audio di Leven Lab animazione di Runaway con una parte ho letto di Meggiorni Statica scrittura ovviamente dei creativi di Caffeina però in quel caso sono anche contenti di dirlo con una mano o di CagPT o qualcosa sul crafting forse può spendere anche una parola matte mentre invece sulla parte proprio di questo è l'inizio di qualcosa chiederei a te eh non lo so cioè questo è un caso un po' particolare perché è un po' meta cioè metatestuale metatestuale nel senso cioè c'è una grande strizzatina d'occhio tipo è tutto fatto con intelligenza artificiale si parla di intelligenza artificiale ed è a me interessa non so nel senso sarà un modo di risparmiare credo che credo sia sia meno costoso di sicuro e a me fa mi colpisce sempre cioè l'estetica tipo delle cose fatte con intelligenza artificiale perché oggi le riconosci però stiamo dicendo una cosa per cui siamo ancora in un momento fra Sora e non Sora ancora aperto fra i prossimi Sora che apriranno in cui ancora non solo chi è veramente in bolla anche chi è fuori dalla bolla più stretta ma è comunque in una bolla ma anche probabilmente la zia Peppina nessuno riuscirà a riconoscere la differenza e quindi no 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 ma c'è quello no no ma infatti questa cosa qui della carpa che canta quella roba lì che sono sempre un po' lucide lucidine una cosa che sembrano uscite da un incubo e no di sicuro c'è ci sono mille questioni aperte ad esempio io ho appena detto cioè ho dato per scontato che tutti siano in grado di capire che questo tizio qui ad esempio non è vero in realtà non credo sia così no e c'è il famoso caso che ha fatto molto parlare in questi giorni dei gruppi sono circolati cioè se ne è parlato abbastanza dei gruppi facebook che pubblicano non so se avete presente queste immagini fatte con intelligenza artificiale ma con religiose non so se non dalla newsletter di diegoli eh ne ha parlato quello di crostacee le cose marine e quella roba lì sono immagini assurde che terribili proprio cioè robe assurde che a quanto pare molte persone credono essere vere e rispondono amen perché c'è Gesù e quindi bisogna dire amen questo è su facebook c'è da dire però questo allora ci sarà sicuramente un problema di bot un problema di giocare con l'algoritmo dicendo dite amen e tutti dicono amen e quindi diventa virale perché ha un alto engagement eccetera eccetera però il fatto è che così tante persone cioè che non ci siano persone che scrivano lì sotto ma che cosa cazzo voi state facendo siete mati boh forse vuol dire qualcosa vuol dire che comunque il livello di la capacità di leggere appunto queste cioè per fregare le persone forse non dobbiamo aspettare Sora Sora giusto Sora 2 o Sora 3 o quello che sarà ma ci siamo già quasi ecco diciamo che il problema vero è sarà quando tutti questi cose qui appunto non il problema vero non è tanto il fatto che questi video sono falsi sono generati con le intelligenze artificiali ma il fatto è l'effetto psicologico che creano nel senso che man mano che diventano più realistici creano un po' il sospetto cioè che tutto possa essere finito e questa cosa qui può essere sfruttata da un politico tipo che in un video dice un politico a caso sì no o quello che è cioè o Fedez è per quello che c'è un video in cui dice qualcosa che potrebbe essere la fine della sua carriera e lui insomma non Fedez ma il politico potrebbe dire no ma quella cosa lì è intelligenza artificiale cosa che Elon Musk ha già detto che una sua cosa era un deep fake ma sono cose che sono diciamo già successe se noi deep fake che sta a questo mondo come la fake news sta al mondo magari più del giornalismo è diciamo il vero tema perché anche c'è una sensibilità diciamo oltre al crafting che sta un po' su queste cose perché io diciamo anche come umile my two cents è che inculare la gente cioè si faceva prima si fa ora non è l'intelligenza artificiale generativa che porta un momento di disincanto cioè ci sono anche proprio nel mondo diciamo più tuo da giornalista cioè se si potrebbe citare da testate un monte di roba in cui poi la gente crede ma non dice amen ma dice è vero che a volte è quasi peggio sicuramente qui c'è io diciamo anche con un po' di ora con la fortuna di fare un po' di esperienza didattica nel senso da professore cioè vedo che questo muoversi velocemente della tecnologia e delle soluzioni tecnologiche se anche noi non riusciamo a muoverci abbastanza velocemente con l'imparare gli strumenti per leggerle diventiamo analfabeti digitali cioè analfabeti non nel senso che non possiamo surfare la piattaforma o guardare questo che non possiamo capire questo che è una roba grossa cioè nel senso la subiamo cioè la subisci e la prendi per quello che è poi a me tipo questo quello non è un tonno già prima cosa però diciamo nel senso che non riesci più a discernere e quando la tecnologia è talmente potente e sembra magia perché riuscire ad avere un po' gli strumenti per fare ma non fa checking però per discernere questa cosa secondo me è un tema perché chiudo solo il pensiero per dire ora io sono con te insomma come si diceva non ci siamo ancora però su questo perché poi vai su Instagram e ci sono tantissimi profili AI generated dove visto che siamo in un mondo statico dove la tecnologia della AI generativa è già molto molto avanti il fotorealismo è già molto molto avanti dove vabbè c'è il disclaimer iniziale che questa ragazza questo ragazzo cioè questa storia è AI generated però se io ti cancellassi quello e vedi il feed d'impatto insomma secondo me già lì ora ci siamo a non essere più sicuri di quello che vedi infatti non so se l'ho preso da un link tuo o di un altro ma in realtà la prossima industry che si dice adesso verrà completamente colonizzata dalla AI è l'industria del porno però diciamo ve la butto lì visto che io ho fatto una domanda poi tanto internet è per il porno io avevo fatto una domanda in realtà su questo commercial che non volevo andare sul distopico ma ci siete voluti andare per forza quindi io vi butto quest'ultima cosa sulla AI ma per riportarla su una parte di comunicazione sono d'accordo sul fatto che moriremo tutti e su Skynet ci ucciderà e probabilmente il deepfake è veramente un problema se pensiamo a le stesse elezioni che ci saranno a novembre se fossimo all'anno prossimo sarebbero per dieci volte più pericolose diciamo le comunicazioni che possono fare i due politici però in realtà chi se ne frega secondo me se nonna Nina o mia mamma guarda questo spot e non capisce se lui è vero o no questo ve la butto un po' come chi se ne frega no no io su questo infatti c'è un voglio fare quello pessimista di se il mondo finirà perché questa è una bellezza però secondo me questa cioè qui conta molto il first move cioè più che quello che viene fuori conta molto il fare questa meta narrazione del nello specifico di caffeina con questo commercial però se lo vediamo come il primo di tantissimi commercial è quello che diceva Pietro prima sul fatto che saremo inondati sempre di più sia lato social perché diventerà una cosa molto bassa e quindi fondamentalmente lo faranno i creator lo faranno gli utenti sia anche però questo forse è un tipo di commercial che vedremo sempre di più quindi secondo me andremo verso un tipo di commercial in cui non sarà così immediato riconoscere il fatto che il movimento è fatto in quel modo e così perché ancora siamo ancora tutti in una stato beta di questi però fra un anno non sarà più così è veramente pericolosa la cosa finché siamo in ambito commercial il primo dato è costa meno sì no no ma il pericolo per me non è sulla cioè quando vedo questo non vedo un pericolo per l'umanità cioè mi interessa quello che c'è che c'è dietro di sicuro costerà meno e ci saranno molto meno persone che ci questo è il pericolo occupazionale in generale no nel senso credo anche che in questo momento siamo così vicini cioè tutto è ancora molto in in corso e quindi è anche difficile farsi un'idea cioè o diventi super ottimista come dire ci salveranno dal lavoro e lavoreremo un'ora al giorno cosa sulla quale purtroppo sono scettico oppure diventi apocalittico secondo me entrambe le cose viste nel futuro anche fra 5 o 10 anni saranno a due posizioni eccessive perché lo sono sempre eccessive ed è normale avere una reazione mega allarmata a una cosa a una novità in generale leggevo c'è una che si chiama The Pessimist Archive che parla di di tutti i casi in cui parla proprio del panico davanti alla tecnologia fa conto ed è appena uscito il numero su i cerca persone da fine anni 80 pip pip quelle cose lì che erano visti come è una cosa siccome venivano usati dagli spacciatori anche allora tipo no i ragazzi non devono perché poi c'era tutta questa idea pensi solo alle cose negative e in realtà sono dei cerca persone chi se ne frega e allo stesso modo un po' tutto anche recentemente è uscito quel libro di cui si è parlato molto sui ragazzi l'impatto psicologico i social è uscito la cosa sull'Atlantic e se ne è parlato molto io non ho letto il libro però mi pare che la discussione attorno a quello sia stata molto da proprio panico morale tipo quello satanista quello satanista negli anni 90 80 per cui Dungeons and Dragons se ci giocavi eri tipo un pazzo criminale cioè la tendenza all'esagerazione c'è però alla base di queste esagerazioni c'è comunque un problema vero nel senso che siamo abituati a vedere una cosa siamo abituati a pensare da sempre da quando esistono i video che a meno che non siano cartoni animati o a meno che non ci siano esplosioni e cose se tu riprendi quello che succede in questa stanza non lo posso aver fatto al computer perché si vedrebbe e poi è un video che ho fatto io perché dovrei farlo al computer invece adesso siamo già in un mondo siamo a un passo da una situazione in cui posso farlo e questa cosa qui boh che effetto ha cioè al di là di far spendere meno soldi all'agenzia o quello che è ha un effetto enorme da una serie di punti di vista anche il fatto che cioè anche se l'elaborazione il truccare le foto è come dire è un'attività vecchia quanto la fotografia cioè scorrono parallele perché nel momento in cui fai la foto cerchi sempre di cambiarla all'inizio ci dipingevano sopra facevano le cose anche se questo è vero c'è da dire che questo è un bel passo in avanti insomma in un territorio che non abbiamo ancora esplorato e che soprattutto non abbiamo legiferato cioè perché possiamo anche pensare che sarà così per sempre via far west però di solito non è così di solito i far west prima o poi vengono ci metti un bel recinto dice ok non potete far questo non potete far quello dovrà succedere un merdone prima che però non lo so magari i precedenti sembrano come funziona la società sembra indicare il fatto che prima o poi qualcuno dirà ok dobbiamo trovare un modo che esistono già in parte in modo di dare delle etichette con i metadati eccetera però insomma anche la cosa dei deepfake e dei porno appunto la cosa di deepfake porno ma quelli fatti nelle classi banalmente che passano nelle chat di whatsapp cioè senza andare tipo su casi assurdi eccetera cose quotidiane metti quei strumenti lì in mano dei ragazzini delle medie del primo superiore non per ma anche degli adulti sia chiaro anche degli adulti però immagino che a quell'età poi soprattutto c'è proprio un'inevitabile cos'è ignoranza di tante cose sei in preda anche agli ormoni eccetera eccetera ti fai trasportare e queste cose qui stanno già facendo dei danni quindi immagino che quelli saranno i primi casi che spero vengano un attimo o almeno resi punibili poi puoi farlo mi fa piacere che anche la mia seconda domanda che doveva essere sul però viveremo tutti bene e parliamo di comunicazione abbia portato alle chat delle medie in cui tutti moriremo anche lì va bene io sono arrivato un pochino alla conclusione faccio per la prima volta una cosa che non abbiamo mai fatto cioè nel senso cercando di spingere con addirittura le nostre mille visualizzazioni o di più di bolla fa l'altro che fa l'altro lo sappiamo già tutti i due libri di Pietro non so se volete aggiungere qualcosa di altro di distopico no 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 distopico no però cioè se possiamo prendiamo 5 minuti per recuperare una cosa da cui volevamo partire ma anche cioè perché Pietro bisogna annoiarsi e annoiarsi un pochino cioè diamo un po' di positività in tutto in tutto questo annoiamo cioè scardiniamo una parola che anche quella è sempre vista negativa come invece qualcosa che ti può dare sì diciamo che la noia qui era anche un pretesto per parlare in generale del tempo di come ci gestiamo il tempo sembra un periodo in cui molte cose vengono ottimizzate no la dieta tutte le cose i guru che si svegliano la mattina ti dicono cosa fare eccetera e mi ricordo che uno dei primi che avevo visto diceva di avere sta giornata abbastanza da matto senza offesa e mi sembrava tutto bello pieno cioè come quando vedi un calendario su google calendar vedi tutto pieno però di solito il google calendar non dura 24 ore cioè poi tu vai a dormire vai a casa non so anche se sei una persona molto impegnata avrai mezz'ora in cui non fai qualcosa altro non fai qualcosa e quindi l'idea della noia era proprio una sorta di era di utilizzare la noia come simbolo di tutta quella parte di tempo che risponde che ci rimane un po' in mano il poco tempo libero che magari abbiamo e che siamo portati da mille cose a farci riempire come dicevamo prima dall'algoritmo che va bene io trovo in alcuni momenti tipo la sera guardare un po' TikTok è la cosa più rilassante del mondo se venisse uno a dire no ma un buon libro io in quel momento direi no cioè il buon libro magari lo leggo dopo cioè una sorta proprio di di attività tipo stretching alla fine della giornata una cosa che ti fa star bene va bene basta che poi avere il controllo e non dire ah sono le 4 di notte non sono andato a dormire quello magari è un problema e e quindi secondo me nasceva tutto il fatto che bisogna dobbiamo tornare un po' a badare al nostro tempo e quindi anche a prenderci a smettere di riempire tutti quei momenti vuoti che magari abbiamo anche quelli da 10 minuti da 5 minuti con in maniera passiva con quello che ci ci da l'algoritmo dell'app che scegliamo e quindi nel libro siccome a noi versi meglio propongo anche dei esercizi siccome è una cosa molto difficile da fare ed è proprio un'attività come un'attività fisica psicofisica c'è un percorso da fare e racconto un po' di cose su perché ci succede in generale e do anche delle attività dei consigli di attività un po' magari scherzosi cose cioè di attività che non che non servono a niente che sono assolutamente inutili ma che puoi fare da solo danni uno beh allora si va dai consigli tipo vediamo vediamo se te lo ritrovo perché nel frattempo ho la testa piena io se vuole te ne dico due te ne ho appena letti nel senso allora uno dei consigli era perché lo legavi molto al digiuno quindi al digiuno diciamo da cellulare intanto installarsi delle app anche se a me sembra buffo installare delle app che ti fermano proprio la possibilità di visione di alcune di questi tiktok o altri non avere il cellulare fondamentalmente sempre dietro e già questi qui potrebbero essere due passaggi e in più quelle miei piaciute di più ma sono soltanto al secondo capitolo era mediare quello che il vecchio quadrone di twitter proponeva e cioè crearsi delle giornate o dei momenti di digiuno totale ecco questo digiuno totale in cui fondamentalmente addirittura lui andava oltre dorsi quindi digiuno di cibo di attività di input in realtà potrebbe già essere buono un disinstallamento un disinstall di un'app per esempio come fai te d'agosto di instagram per esempio per vedere di passare un mese senza un input come quello e questo già per me quando l'ho letto sono andato dalle notifiche e ho levato dalle notifiche instagram e un link che però non so se riesco a resistere fino a domani con il cellulare messo in questo modo però già nel senso ho levato il link delle notifiche potrebbe essere un bel passo avanti o un altro che mi avevo detto di parlavamo prima dell'intelligenza artificiale potremmo non lavorare eccetera c'è il famoso tema dell'universal basic income c'è questo esercizio che appunto è arrivare preparati all'universal basic income e c'è una sorta di agenda pagina di un'agenda che puoi riempire e spiego come poi comunque ognuno può fare come cioè immaginare la tua giornata in un mondo in cui si concretizza questa in cui non lavoriamo più in cui non lavori o comunque lavori è ridotto all'osso e secondo me in quel caso lì bisogna arrivare preparati perché se succedesse domani lo ricordiamo però nel senso Paperino su un topolino ha il calendario della sua giornata e parte un sveglia riposo riposino spuntino si potrebbe copiare quello si può copiare quello però dai diciamo se icona vince il team robot che comunque le macchine ci libereranno tanto tempo dovremo pensare anche a come occuparlo e a come approcciare la noia in una maniera lei sarà un bel problema da affrontare grazie a Pietro grazie a voi al prossimo video ciao